Rieccoci per affrontare adesso il pre-gara del nostro Amato Palermo di domani a Bolzano contro il Sul Tirol. Una partita che capita in un momento molto delicato per quanto ci riguarda, che si viene da due risultati negativi, ovvero una sconfitta e una vittoria e un pareggio. Quindi è una partita molto delicata per noi, sebbene ricordiamoci che il nostro primo obiettivo è e rimane la salvezza, poi se viene altro che ben venga. Il Sul Tirol giocherà con un, chiamiamolo classico, 4-4-2, Poluzzi in porta, De Col, Vinetot, Zara e Celli in difesa, Tait, Belardinelli, Luca Fiordilino, ex di turno, che ricordiamoci ha giocato a Palermo prima del fallimento. E' Matteo Rover a completare i 4 di centrocampo. E' l'attacco affidato a Mirko Carretta, giocatore che tante volte ci ha punito, e Raffael Odogui. Mentre invece, per quanto riguarda il nostro Palermo, abbiamo il solito 3-5-2 di Eugenio Carini, e abbiamo Mirko Pigliacelli in porta, Mateo, Nedelciaru e Graves a comporre la linea difensiva. A centrocampo i soliti Di Mariano, Segre, Gomez, Saric e Marco Sala. Ovviamente di Magriano e Sala, le fasce. Con attacco, il nostro nuovo numero 7 è Gennaro Tutino, e il nostro bomber Matteo Brunori. Sarà una partita molto complicata, anche perché il Suttirol cercherà di vincere, come ogni squadra che affronteremo. e quindi sarà una partita non facile. Mettiamo subito l'emba in avanti, perché sebbene siamo Palermo, sebbene siamo la quinta città d'Italia, sebbene tutto quello che vogliamo, ma ricordiamoci che veniamo da un percorso che ci ha portato dalla Serie D alla Serie B, e non dalla Serie A, perché tanti pensano, perché siamo la quinta città d'Italia, siamo una bella tifoseria, che subito dovremmo salire in Serie A. Ripeto, se avviene, ben fatto sia, ma chi lo dice che per forza dobbiamo salire in Serie A al primo anno? Cioè, difficile, non impossibile, ma difficile. andiamoci con calma. Poi, se avviene la Serie A diretta, se avviene la Serie A primo anno, onestamente anche io sono il primo a ad esserne felice. Ma, nello stesso tempo, se non riusciamo ad andare in Serie A, non è mica una tragedia. come ho detto, partita molto complicata, perché il Zutirold cercherà di fare la sua partita, come la cercherà di fargli anche il Palermo. Il Zutirold sappiamo che è una buona squadra, che hanno dei giocatori in grado di poter fare tanto, ma anche noi, dalla nostra, abbiamo giocatori anche come Segre, come Saric, come anche in panchina, abbiamo anche Bro, abbiamo Soleri, Lancini, cioè, abbiamo dei giocatori che, o bene o male, ci possono aiutare ad andare più avanti possibile in campionato. Detto questo, speriamo di un buon risultato, ricordiamo che si gioca domani alle 2, dallo stadio di Bolzano, che, vediamo se riesco a trovare il nome, ma, qui, è difficile, no, non lo trovo in questo, cioè, pensate che sono sul sito Mediagol, quindi, non sempre ti dà la, il nome dello stadio avversario. Detto questo, ricordiamoci sempre, forza Palermo, ricordiamoci sempre, di sostenerlo, anche nella sconfitta, anche in caso di sconfitta, perché, perché, tanti, si, fanno tipo, il doppio gioco, ovvero, quando vince il Palermo, quando, quando le cose vanno bene, sono tifosi del Palermo, quando invece le cose vanno male, ah, ma che squadra è, ah, ma che, che società c'è, i giocatori sono tutti dei bidoni, l'allenatore, eh, è inadeguato, ma ricordiamoci che, i giocatori, sono uomini, come tutti noi, possono sbagliare, come possono indovinare, e sinceramente, criticarli sempre, non, non è una cosa buona, certo, rammaricarsi per la sconfitta, ci sta, criticare per, criticare per essere costruttivi, non per, criticare per, dire, quello che non va, perché, ricordiamoci che sbagliare, è umano, a volte, a volte, gli errori si pagano, come, come anche a di fuori del campo, del resto, detto questo, vi saluto, una, una buona serata, buon, buon riposo, per chi giustamente va a riposare, e forse a Palermo sempre, a domani. a domani, a domani, Grazie.